La Guardia di Finanza di Crotone ha eseguito delle misure cautelari, sette in carcere, due domiciliari e un diveto di dimore in Calabria nei confronti di presunti esponenti della cosca d'Indrangheta, Mannolo, Trapasso, Falcone e Zofreo, operante nella zona di Cutro, in provincia di Crotone, con diremazioni anche nel nord Italia. Contestati reati di estorsione, usura, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori aggravati dalle modalità mafiose. I provvedimenti emessi dal GIP di Catanzaro, su richiesta della DDA del capoluogo calabrese, sono stati eseguiti a Cutro, nella frazione San Leonardo, Petilia Policastro e Botricello, nell'ambito dell'operazione denominata Ionica. Una delle misure in carcere nei confronti di uno degli indagati per usura ed estorsione è stata eseguita dalla Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, a cui uno degli imprenditori vessati si è rivolto per denunciare i fatti. Sequestrati con finalità di confisca beni mobili e immobili per 2 milioni di euro. I sigili sono stati apposti a quattro ditte individuali con sede in provincia di Crotone, operanti rispettivamente nel settore della vendita del caffè, nel settore della vendita dei prodotti agroalimentari, nel settore dell'edilizia e nel settore della distribuzione alimentare. Sequestrati anche 19 conti correnti bancari, 6 beni mobili, un terreno e 5 appartamenti e 6 autovetture.